cooperative negli ospedali contrario l'ordine dei medici continuano gli avvistamenti di lupi vicino ai centri abitati turismo salgono a 21 i comuni degli itinerari della bellezza azienda compie 50 anni e dona 1000 euro ai suoi dipendenti natale a pesaro si accende l'albero a talacchio ecco il presepe buonasera ben ritrovati su rossini tv e benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19 e 40 che poi potrete vedere in replica alle 20 e 40 oggi è mercoledì 7 dicembre apriamo questa edizione parlando di sanità in questo primo servizio vediamo come nel nostro territorio si stanno formando nuovi giovani medici ma il presente degli ospedali vede crescere l'utilizzo delle cooperative private un tema sul quale l'ordine professionale provinciale esprime forte contrarietà la carenza delle personale medico continua ad essere un problema strutturato alla sanità marchigiana eppure i giovani medici continuano ad arrivare 170 quelli proclamati nel weekend scorso dalla cerimonia tenuta dall'ordine provinciale dei medici all'hotel flaminio una boccata d'ossigeno per il futuro che non risolve però le impellenze del presente 170 sono i medici che hanno giurato domenica scorsa però c'erano degli assenti quindi di fatto negli ultimi tre anni anni e mezzo l'ordine di medici ha iscritto questi 170 più altri 60 tra medici e odontoiatri quindi sicuramente siamo in forte crescita come numero di colleghi iscritti all'ordine però questo non vuol dire che sì è vero che prima o poi la carenza magari ci auguriamo che finisca però per altri due o tre anni saremo in sofferenza perché ancora non ci sono nuovi medici di medicina generale e questi ragazzi ancora frequentano i primi anni delle scuole di specializzazione quindi di fatto attualmente e per altri due o tre anni medici di medicina generale guardie mediche e specialisti saranno saranno carenti sicuramente aspettando le nuove leve la sanità marchigiana sta ricorrendo a piene mani alle cooperative private allora il problema delle cooperative la loro gestione secondo me non è non è assolutamente corretta è vero che si fanno i salti mortali per reperire i medici in calabria cercano i cubani in sicilia cercano gli argentini qui da noi le cooperative la stanno facendo da padrone nel senso che invece di uno stipendio se ne viene a prendere uno doppio o anche triplo facendo meno turni e più riposi bisogna dire anche questo che non è solo l'aumento dello stipendio vuol dire che anche è la prospettiva di una vita sicuramente migliore quindi sicuramente noi come ordine ribadiamo la nostra contrarietà a questo sistema nel senso che eh si devono trovare dei meccanismi premianti per i medici soprattutto quelli che eh sono impiegati nei servizi di urgenza e di emergenza e eh senza eh attingere da queste cooperative nelle quali come come vedete come leggete tutti i giorni su tutti i giornali non si sa che provenienza abbiano non si sa che esperienza abbiano quindi siccome la l'ordine prima di tutto deve tutelare e garantire la salute dei cittadini eh chiaramente non può essere d'accordo che eh certi medici eh senza controllo e che fino all'altro ieri hanno fatto tutto un altro mestiere vengono collocati eh nei pronti soccorsi dei servizi di emergenza senza nessuna esperienza e se praticamente eh senza nessuna garanzia appunto per per i pazienti che si che si rivolgono a loro siamo quasi ad un mese di sciame sismico ininterrotto a largo delle nostre coste e vi segnaliamo che anche oggi la terra è tornata a tremare con magnitudo 3 nell'epicentro ormai noto ovvero a 25 chilometri a largo del mare di Fano e ad una profondità di 10 chilometri la scossa è stata avvertita alle 12 e 06 ci si sta dunque abituando a convivere col terremoto e ci si sta sforzando pure di convivere con la presenza di fauna selvatica nella vicinanza dei centri abitati. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato un servizio relativo all'avvistamento di altri lupi nella zona pesarese di Cattabrighe che si sono avvicinati a pollai e animali da cortile. Negli ultimi due giorni è stata segnalata anche l'uccisione di due esemplari travolti in strada da auto nelle Siligate e nella Montelabattese. Un fenomeno purtroppo non raro visto che secondo i dati del centro recupero animali selvatici sono 25 gli esemplari di lupi investiti dalle auto in provincia in questo 2022. Ed ora cambiamo argomento. Nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo mostrato come ultimora la notizia di un camion a fuoco nell'autostrada A14 all'altezza di Pesaro grazie proprio al video amatoriale che ci è stato inviato da un nostro telespettatore che chiaramente ringraziamo. Ora vi mostriamo altre immagini di questo incendio sedato dai vigili del fuoco in cui è uscito illeso il conducente del mezzo pesante dopo che si era riversato in strada un carico di bombolette spray altamente infiammabili. L'incidente ha mandato in tilt il traffico autostradale con i veicoli prima incolonnati e poi fatti uscire obbligatoriamente nei caselli di Pesaro e Cattolica. Ed ora andiamo a parlare di turismo. Continuano a crescere gli itinerari della bellezza di Confcommercio che nel 2023 coinvolgeranno ben 21 comuni della nostra provincia. Un successo di promozione territoriale che è stato celebrato ieri sera nella convention tenutasi fra la sede pesarese dell'associazione di categoria e l'istituto alberghiero Santa Marta. Il progetto è nato cinque anni fa con cinque comuni Fossombrone, Mondavio, Pergola, Urbino e Sant'Angelo in Vado. Chiudiamo il 2022 con 16 comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico della promozione turistica e apriamo il 2023 con 21 comuni. Quindi nelle ultime settimane abbiamo ricevuto l'adesione di cinque nuovi comuni che sono Piobbico, Monbaroccio, Mondolfo, Isola del Piano e Cartocetto. Quindi cinque nuovi comuni che completano l'offerta dei prodotti turistici del nostro progetto. Quindi un progetto che sta andando molto bene e il fatto che aumentano i comuni vuol dire che abbiamo dato visibilità a queste località tentando la trasformazione in destinazione turistica di comuni che hanno anche piccole opere d'arte ma comunque hanno un'offerta turistica importante messa insieme con la rete di comuni che noi abbiamo costituito. In questo senso l'itinerario è un girare, un conoscere, un approfondire, un vivere un'esperienza che va al di là della sola e singola esperienza turistica ma diventa un viaggio nella nostra regione, nella cultura, nella storia, nell'enogastronomia, nell'artigianato, nella manifattura, nel paesaggio. È un viaggio che riesce a coinvolgerti e per cui quando si torna a casa si ritorna con un'esperienza che si riesce anche a trasmettere meglio a chi è vicino a noi. Oggi il turismo necessita di un lavoro in squadra, bisogna lavorare insieme, pensare come si faceva una volta che ogni comune può promuoversi è pura follia. Oltretutto piccoli comuni non hanno né le risorse né le professionalità per farlo. Noi mettendoli in rete invece riusciamo a fare un lavoro molto importante. Abbiamo fatto tante iniziative fieristiche, abbiamo pubblicato tanto materiale promozionale, abbiamo fatto press tour con la stampa nazionale, abbiamo fatto educational, insomma veramente abbiamo utilizzato tutti gli strumenti del marketing per promuovere queste località. E di questo evidentemente ce ne danno atto due cose. L'aumento dei sindaci, quindi l'aumento dei comuni, e anche l'aumento delle presenze turistiche nella nostra provincia. Perché è vero che non dipende solo da noi, ma un po' dipende anche da noi. Cioè il fatto che nella provincia di Peso Urbino abbiamo superato le presenze turistiche del 2019 con oltre 400.000 presenze in più del 2019, quindi dell'anno pre-Covid. Vuole anche dire che chi lavora nella promozione come noi, ma ovviamente merito anche della Regione, o soprattutto della Regione, ha svolto bene il proprio compito. E anche gli ingressi nei musei che gestiamo noi, Pergola, Mondavio e Fossombrone, un aumento dei visitatori sta a dimostrare insomma che il lavoro che abbiamo svolto di promozione è un lavoro vincente. E vi ricordo che potrete approfondire questi argomenti che avete appena visto in uno speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà sabato 10 dicembre alle 21.20. Questa mattina invece le nostre telecamere sono entrate in un'azienda di Pesaro che ha appena compiuto 50 anni e ha festeggiato questo prestigioso anniversario regalando ben 1000 euro ad ogni suo dipendente. Siamo a Studio 83, azienda di serigrafia di Pesaro che in questo fine 2022 compie 50 anni, un compleanno speciale a cifra tonda che il titolare Arnaldo Piovaticci ha deciso di infiocchettare diciamo così con un premio speciale quello di 1000 euro a ogni dipendente. Che dire, a Natale si è tutti più buoni, in questo caso un'azienda buonissima. Guardi, io non era tanto i 1000 euro, era solo il pensiero di dare questo premio a questi operai perché sono gente che sono validi, sono bravi, quindi meritava proprio di cuore questo omaggio che abbiamo fatto e che siamo contenti di aver dato. Tra l'altro anche loro, ci hanno fatto un regalo anche loro, è stata una festa che è stata sentita da tutti e quindi siamo molto contenti di questa cosa. Ricordiamo anche chi è Studio 83? Allora, Studio 83 nasce nel 72 e tutti pensano che l'83 sia l'anno di partenza ma in realtà l'anno di avvio del lavoro è stato nel 72, nel 1972. Abbiamo cambiato 3-4 sedi, adesso siamo in questa nostra sede che diciamo ci rappresenta un po' anche per il tipo di attività che facciamo, abbiamo bisogno di spazi, quindi diciamo che qui siamo strutturati bene. La storia è quella di essere partiti da zero, completamente da zero, a 20 anni e ci ritroviamo adesso ad averne più di 70. Abbiamo i figli dentro che ci porteranno avanti in questa azienda e quindi siamo contenti di questa cosa, di lasciare almeno un segno a queste persone e qualcosa abbiamo fatto. Ci siamo arrivati qua, il merito anche di mia moglie che mi ha supportato in questi anni, quindi voglio dire nel lavoro sicuramente è stato importante avere una figura vicino che ti sprona a fare queste cose. E dunque un Natale di generosità per questa azienda pesarese, così come sarà sicuramente un Natale felice, quello di un operaio che in un bar di Villanova di Colli al Metauro ha vinto 100.000 euro con un gratta i vinci da 5 euro. Si tratta della vincita al gratta i vinci più importante nella nostra provincia da quando furono vinti 200.000 euro la scorsa primavera in un bar di Mondolfo. A Gabice Mare partiranno lunedì 12 dicembre i lavori di consolidamento del ponte sul fiume Tavollo per la realizzazione di una nuova passerella pedonale. Da lunedì dunque verrà completamente interdetto il traffico veicolare e ciclo pedonale con la chiusura del ponte che unisce i comuni di Gabice e Cattolica per tutta la durata dell'intervento. Si tratta del completamento di un'opera realizzata dalle due amministrazioni con 450.000 euro stanziati per risolvere le reciproche criticità di viabilità. Sabato 10 dicembre la sala del Consiglio Comunale di Cantiano ospiterà la cerimonia di premiazione di Il Gioco del Sindaco. L'edizione 2022 del premio dell'Associazione Comuni Virtuosi ha infatti scelto proprio il borgo ferito dall'alluvione come luogo in cui assegnare questo premio nazionale che accende i riflettori su chi ogni anno dedica se stesso all'attività amministrativa dei territori. A Cantiano a partire dalle 12 saranno presenti i sindaci di 11 comuni il cui buon lavoro è stato votato online dai propri concittadini. A partecipare alla premiazione ci sarà anche Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente dei sindaci italiani. Parliamo anche di musica ricordandovi che venerdì 9 dicembre alle ore 21 la Vitrifrigo Arena ospiterà l'atteso concerto del rapper sardo Salmo con il suo flop tour. Dopo aver radunato in estate ben 50.000 spettatori a San Siro Salmo sarà a Pesaro in uno degli ultimi appuntamenti in 12 palazzetti italiani di una tournée che si concluderà il 18 dicembre a Torino. E domani iniziano ufficialmente le iniziative natalizie nel centro storico di Pesaro a dare il via alle celebrazioni sarà l'accensione dell'albero che illuminerà Piazza del Popolo. Vediamo. Giovedì 8 dicembre ore 18 Piazza del Popolo queste le coordinate della partenza delle iniziative natalizie di Pesaro nel cuore una partenza che fa rima con l'accensione dell'albero più illuminato d'Italia ma a basso consumo grazie alle 100.000 lucine a led e ai 4 portali luminescenti collocati nelle 4 porte d'accesso al centro storico una cerimonia di apertura che proseguirà con il concerto dei 50 elementi del coro Grillo d'Oro che accompagneranno l'apertura dei mercatini natalizi. Ho preparato un programma veramente interessante un programma più articolato e più diciamo bello rispetto agli altri anni proprio perché volevamo far sì che nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo. E quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città porteranno l'atmosfera natalizia e tutto questo per, come dicevo prima, per far sì che turisti e cittadini possano vivere questo Natale e magari in maniera calda e in maniera unita. E dunque appuntamento nella sera dell'Immacolata sotto l'albero che si illuminerà anche del tocco artistico delle palle decorative smaltate dalla maestria degli studenti del Liceo Mengaroni. Quest'anno in modo particolare, perlomeno a me è piaciuto e penso anche ai ragazzi, il soggetto, il tema sul risparmio energetico per cui c'è stato un recupero ma anche di un Natale più sobrio più tradizionale che non è detto sia peggio anzi forse c'era bisogno di recuperare anche dei valori poi alla fine il Natale è bello e sfido chiunque a pensare che le palline di Natale di un albero di Natale non siano affascinanti e per cui i ragazzi hanno lavorato a questo soggetto pensando però anche addirittura a delle decorazioni vintage per cui ancora un recupero più tradizionale del tutto. E mentre a Pesaro si illuminerà appunto proprio domani alle ore 18 l'albero di Natale a Talacchio verrà invece inaugurato uno dei presepi più affascinanti della provincia di Pesaro Urbino. Se il presepe vuoi visitare ferma la macchina e comincia a camminare questo è il messaggio che accoglierà da domani 8 dicembre tutti quei curiosi che vorranno visitare Betlemme a Talacchio nella sua magica cornice colorata da oltre 250 statuette di stoffa tra personaggi e animali. Un presepe itinerante che sarà percorribile soffermandosi sulle particolarità e sui minuziosi dettagli che da sei edizioni caratterizzano questa realtà unica nel territorio. Dalle Massai ai Salumieri passando per i pastori fino alla Natività ai piedi della chiesa. E poi i vestiti in disuso, le tovaglie, le coperte che grazie a impegno e passione ottengono una seconda vita. Un lavoro che da anni viene portato avanti con cura da alcuni abitanti di Talacchio e che nel tempo non ha visto soltanto aumentare le sue dimensioni ma è stato capace di attirare anche tanta curiosità di altre città fuori regione. Come nel caso di Baronissi, comune in provincia di Salerno che da un paio d'anni, dopo una fortuita visita al presepe di Talacchio ha replicato queste rappresentazioni stringendo un gemellaggio con il comune di Vallefoglia. Gemellaggio che quest'anno ha avuto forma in uno scambio di tre statuette. Semplicemente il volere delle parrocchie e della comunità che hanno realizzato queste tre statue per portare nel presepe del ciliegio a Baronissi in provincia di Salerno, in Campania e ho riportato su tre statue. Credo che sia stato un lavoro straordinario delle due comunità della città. Talacchio perché è partito tutto da Talacchio perché il sindaco ha visto questo evento di Betlemme a Talacchio e l'hanno un po' copiato e hanno fatto un bel lavoro devo dire sotto un convento in un luogo, in un parco pubblico hanno fatto un bel presepe. domani in contemporanea si saranno questi due eventi noi abbiamo firmato un patto di amicizia tra le due città. Un presepe itinerante che è un risultato frutto dell'impegno di alcuni pensionati e abitanti di Talacchio ma anche della parrocchia che accompagna con la fede la realizzazione di questo capolavoro del territorio. Il presepe ha un valore immenso e molto importante perché appunto ci parla di Dio che si fa umile perché Dio lascia il suo rango divino per farsi uno di noi. Prendendo la nostra condizione umana noi quando preghiamo ci rivolgiamo a uno che è come noi ci sentiamo proprio ascoltati perché Dio è amore facendosi uno di noi. Un mese esatto con l'inaugurazione di Betlemme a Talacchio che avverrà l'8 di dicembre alle 15 e si concluderà l'8 di gennaio. Un presepe che si animerà il giorno dell'Epifania con l'arrivo dei Re Magi mentre a colorare la via principale del piccolo paese ci penseranno anche i mercatini natalizi. La lotteria è praticamente noi vendiamo dei biglietti poi il 5 gennaio nell'Unione dei Comuni a Pian del Bruscolo ci sarà l'estrazione dei premi e il primo premio è una bicicletta elettrica del valore di 2850 euro poi domani si inaugura il mercatino sì, domani che è giovedì, venerdì, sabato e domenica ci sarà il mercatino nel salone della Canonica ci sarà il giorno dell'Epifania piuttosto che nella Canonica lo si farà qui nella piazza e lungo la via che fiancheggia diciamo le postazioni del presepe. Tra le case che nei loro cortili ospitano parti del presepe itinerante c'è anche l'abitazione della signora Angela che nel suo piccolo giardino ha lasciato spazio alle sue creazioni il percorso di Gesù da lei realizzato completamente all'uncinetto non è inserito nel progetto di Betlemme a Talacchio ma il fascino non è affatto da meno tutte le tappe della vita di Gesù create e raccontate con passione da Angela in grado di riflettere ulteriore luce su Talacchio in questo magico periodo natalizio. E allora seguite in questi prossimi giorni di festa tutte le celebrazioni natalizie nei nostri bellissimi paesi della provincia di Pesaro Urbino e seguite anche Rossini TV perché attenzione questa sera vi mostreremo una nuova puntata inedita che non avete mai visto di Ci Inviti a Cena appunto Paolo e Nicoletta andranno a casa di Anna e Gigi che sono una coppia che vivono a Pesaro e che racconteranno insomma la loro idea di cucina la loro tradizione culinaria questo e tanto altro questa sera alle 21.20 e poi andiamo avanti perché domani giorno di festa domani l'8 dicembre non ci sarà né la rassegna stampa nel nostro consueto telegiornale e allora torneremo qui con voi con la nostra rassegna venerdì 9 dicembre alle 7.20 in diretta chiaramente sul canale 80 e su Facebook e poi abbiamo altre segnalazioni perché appunto domani non ci sarà il consueto appuntamento con Insieme a Canestro ma torneremo la prossima settimana in diretta quindi giovedì 15 dicembre con tantissimi ospiti della VL ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata di festa per la giornata appunto dell'8 dicembre e noi ci ritroviamo qui su Rossini TV venerdì 9 dicembre grazie mille e buona serata a tutti voi